Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIODER e ragazzi Fortbyte numero 23 si trova dentro un lama di metallo Abbiamo già capito ovviamente qual è il lama, quello dietro, crocevia del ciarpame, la posizione corretta è semplicemente ragazzi questa Non mi ricordo che tasto ho messo per la modifica, la Q Si entra nella testa, si scende di un piano, si scende di un altro piano Fino a trovare le scale e la posizione ragazzi non qua dove c'è la porta ma esattamente qua Troverete il Fortbyte numero 23 Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live Ciao! Ciao!